Quei 400 metri di sottopasso bloccati da ormai 15 anni è il mistero dell'eterna incompiuta di Avellino, il tunnel di piazza Garibaldi. Il sindaco Festa ha lanciato annunci su annunci da circa un anno. Siamo pronti, parliamo di ultimo miglio, eppure l'opera l'8 agosto è ancora così. Sembra tutto pronto ma non parte. Sono anni che stiamo in queste condizioni Avellino, sono anni. E' sempre quello, sempre quello. Dopo 17 anni si parla ancora del tunnel, oramai è una chimera. Manca sempre qualcosa per aprirlo, ma perché? Perché secondo me non sanno come lo devono richiudere. Non serviva proprio, non serviva proprio perché non risolveremo niente, perché non ci passerà nessuno. Temo per settembre perché riprenderanno le scuole, ci sono tante questioni legate alla sostenibilità che, come dire, rispetto alle quali non ho capito ancora bene qual è l'indirizzo. Se non torneranno proprio, meglio ancora, perché questo arriva sotto al ponte. E quindi che miglioramento abbiamo? Un'opera inutile, dice lei. Hanno speso 6 miliardi, ci potrebbero fare tanti quei palazzi che ha gente che dorme ancora in macchina. Bisogna che usi un po' più di cautela negli annunci più ponderati, diciamo così. Non utile che questo entusiasmo preventivo, diciamo così.